salve buonasera a tutti bene oggi penultima mercoledì quindi siamo già al giro di boa della settimana i listini europei chiudono intorno alla parità quindi non c'è stato nessun movimento interessante andiamo a vedere che cosa è successo soprattutto per quanto riguarda i listini europei i dax chiude a meno 0,06 per cento nibex a più 0,18 per cento il cac parigi con una parità preciso poi abbiamo il londra meno 0,16 ed il fuzzimip piazza affari con meno 0,20 per cento ci sono stati dati solo in arrivo dalla gran bretagna nel terzo trimestre il dell'anno il pil segna quindi un più 3,5 per cento si tratta quindi della seconda lettura in linea con la prima lettura flash quindi l'economia americana si conferma ancora con questo dato positivo in ottima salute bene mentre invece ci sono alcune interessanti notizie che arrivano dalla dalla gran bretagna l'addio all'unione europea non mancherà di avere ripercussioni economiche appunto in gran bretagna tra gli scenari elaborati soprattutto dal tesoro britannico in caso di brexit quello che più preoccupa nel caso di uscita della dell'unione europea in maniera traumatica ossia senza un accordo con brussel perché in tal caso l'effetto negativo accumulato sarebbe del 10,7 per cento sull'economia britannica nell'arco dei prossimi 15 anni in base all'attuale accordo raggiunto con l'unione europea che deve ancora essere approvato al parlamento britannico la cresce del pil risulterà del 3,9 per cento in più in 15 anni rispetto a quello che ci sarebbe stata rimanendo all'interno dell'unione europea in ogni caso i vari scenari prospettati dal tesoro britannico vedono l'economia ad oltre mani la più debole il nord est dell'inghilterra che ha sostenuto con decisione l'uscita dell'unione europea sarebbe ovviamente la regione più colpita da una brexit senza accordo il cancelliere dello scacchiere philip anthony hammond ritiene quello raggiunto dall'unione europea sulla brexit sia il miglior accordo possibile per l'economia inglese anche se è innegabile che l'uscita dall'unione europea avrà un costo in quanto ci saranno maggiori ostacoli al commercio bene adesso andiamo a vedere domani giovedì 29 novembre praticamente ult penultimo giorno del mese di novembre che stiamo quindi lasciando alle spalle andiamo a vedere a quali sono le notizie macroeconomiche più interessanti da poter tenere sotto stretto osservazioni abbiamo la variazione della disoccupazione della germania alle ore 9.55 alle ore 16 contratti pendenti di vendite di abitazioni di ottobre e poi i verbali della riunione del fomago quindi domani abbiamo dei dati che praticamente però non è che abbiamo una seduta molto interessante dal punto di vista macroeconomico bene adesso andiamo a vedere quello che è successo oggi oggi appunto i mercati non è che hanno avuto questi grossi movimenti appunto ciò ha seguito anche abbiamo visto anche per quanto riguarda il comparto il comparto azionario andiamo subito a vedere le uniche operazioni che sono state chiuse oggi partendo dal US crude quindi per quindi per la è la sesta operazione di fila che chiudiamo quindi settima scusate mi sei target se operazioni andate a un buon fine solo uno stop loss nel nel giro degli ultimi 20 giorni e oggi praticamente dopo i 135 punti che sono stati raggiunti nella sessione di ieri questa questa è l'operazione sell eccola qua adesso abbiamo raggiunto altri 65 punti quindi praticamente eccolo qua 65 punti poi praticamente che cosa è successo che qua c'è stato una movimentazione al rialzo seguita anche dalla dalla correlazione quindi dalla correlazione inversa nei confronti soprattutto del di usd card che in questo momento sta subendo appunto una movimentazione al al ribasso bene stavo parlando appunto dopo andiamo a vedere anche la situazione legata al usd card che sta avendo al momento sta dando una forte movimentazione il prezzo nel giro di poco più nell'ultima ora è sceso oltre i 40 punti poi abbiamo chiuso le operazioni di le operazioni praticamente di acquisto per quanto riguarda la stellina dollaro della nuova zelanda abbiamo un primo target è stato raggiunto il primo target quindi un primo target su stellina dollaro della nuova zelanda di al di sotto di 89 punti quindi al di sotto il pivot point settimanale eccolo qua poi il prezzo è sceso quindi l'ho chiuso sui 40 punti totale abbiamo messo da parte 129 punti bene questa è la situazione per quanto riguarda poi per quanto riguarda invece altre operazioni un attimo solo che vado a controllare altre operazioni abbiamo no altre operazioni non ci sono altre operazioni stellina dollaro nuova zelanda a dollaro stellina dollaro stellina dollaro l'ho chiuso intorno alla parità 5 punti più 5 punti perché il prezzo vedete ha iniziato ad avere questa movimentazione al ribasso quindi ho preferito chiudere l'operazione per quanto riguarda invece le altre operazioni in particolare partiamo dall'euro dollaro l'euro dollaro siamo sell sono buy lascio il buy al mercato in questo momento il prezzo è rimbalzato sul 78 6 1 12 70 vedete abbiamo un punto di swing su questa zona potrebbe partire stasera una ulteriore movimentazione al al ribasso molto interessante e molto interessante seguire dollaro yen sul 4 ore quindi dollaro yen in quanto siamo arrivati in una zona molto interessante vedete una zona di una zona di supply dove già in passato il prezzo in questa zona vedete ha subito diversi diciamo iniziato questa movimentazione al ribasso proprio in questo momento nel momento in cui stiamo in onda c'è stato questa fase questo blocco questa situazione dove una piccolo storno piccolo storno ci siamo su quattro ore vedete questo si possiamo andare analizzare anche su h1 ed è una situazione che se continua così è molto interessante da poter quindi seguire per un'eventuale operazione bearish il pattern armonico è ancora vero la bearish bat è ancora è ancora valida il punto di si è spostato più in alto e quindi da qua a fine serata oppure massimo domani mattina andremo a vedere se ci stanno le possibilità di poter spostare il 6 stop più in alto appunto per poter entrare al mercato come vi dicevo prima invece su usd card eccola qua il mi metto un attimo sull'orario vedete abbiamo una forte movimentazione in questo momento sull'orario in controtendenza appunto all'us crude di circa 46 punti nell'ultima ora quindi ciò ha formato questa sorta di pin su un massimo importante qua abbiamo un punto di swing di swing high e quindi da questa zona diciamo io sono sell a mercato c'è la possibilità di un ulteriore ingresso a mercato sell anche perché vedete sul giornaliero anche qua siamo arrivati su una zona di supply molto interessante che già è stata attestata esattamente il 27 giugno dove appunto sono iniziati i vari movimenti quindi questo potrebbe essere indicato come una sorta di movimentazione ciclica quindi staremo a vedere che cosa succede stasera dove questo potrebbe essere utilizzato questo punto di swing high potrebbe essere utilizzato come una possibile ingresso a mercato ulteriore ingresso a mercato sell per poter andare a mediare sopra all'operazione che si trova più in basso per quanto riguarda gli indici oggi non è che ci sono state grosse indicazioni l'unica siamo abbiamo una indicazione di stampo bearish appunto sopra al 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 down jones in questo momento c'è una forte movimentazione vediamo un attimo quello che succede si è spostato il punto di un po più sopra vediamo se si rimbalza sul 24 24.970 bene per stasera è tutto grazie mille per l'attenzione e ci aggiorniamo quindi con la prossima diretta live che di domani mattina alle ore 8 e 30 buona serata a tutti ok Grazie.